Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador per l'Italia di Bim Santori. Oggi insieme scopriremo la distilleria Bomor, che in gaelico, in lingua gaelica, la lingua parlata in Scozia significa ampia scogliera sul mare. Ci troviamo ad Aila, una piccola isola nelle Ebridi, famosa per i suoi whisky torbati, quindi questi whisky dal sentore affumicato e marittimo. Bomor è stata la prima distilleria su Aila a ricevere una licenza ed era il 1779. Questa distilleria nasce nel paese di Bomor, che a sua volta nasce proprio in virtù della costruzione della distilleria. Pensate che sul paese, oltre alla distilleria, c'è solo una chiesa e la cosa curiosa è che la chiesa ha una pianta circolare. Questo perché? Perché si credeva che costruendo appunto una pianta circolare il diavolo non potesse trovare angoli in cui nascondersi. Distilleria che ha avuto alti e bassi durante la sua storia, ma che ha sempre tenuto botta e sempre rimasta aperta, se non per un piccolo periodo durante la seconda guerra mondiale, dove appunto la distilleria ospitava gli aerei militari. Nel 1994 però la grande rivoluzione, Bomor viene interamente comprata da Santori e proprio grazie a Santori inizia un percorso nuovo, soprattutto un percorso vocato a quella gestione delle botti. Quindi grazie a Santori si ha una gestione migliore delle botti e grazie proprio a Santori oggi Bomor produce uno degli scotch più apprezzati al mondo. Uno scotch con un carattere particolare, uno scotch che invecchia nel Vols No. 1, che è il magazzino di invecchiamento più vecchio di tutta la Scozia ed è l'unico appunto in Scozia che si trova sotto il livello del mare. Quindi questo sicuramente influisce su quelle che sono le caratteristiche organolettiche dei nostri whisky. Caratteristica importante, la nostra distilleria è una delle uniche sei distillerie rimaste in Scozia che effettua ancora la fase di maltaggio a pavimento e la fase di essiccazione viene ovviamente prodotta con fumo di torba, torba tra l'altro di nostra proprietà, quindi ci approvvigioniamo di torba dalla nostra torbiera. Anche l'acqua viene presa dal fiume Laggan che è un fiume vicino alla distilleria e sicuramente queste due caratteristiche conferiscono a Bomor un carattere unico e distintivo. La fumicatura avviene come dicevo prima a mezzo di fumo di torba ma soltanto per metà del malto. L'alta metà del malto viene essiccata con un'aria calda, quindi Bomor è un whisky torbato ma non eccessivamente fumoso, siamo a circa 22 parti per milione di torba. Una delle sue più grandi caratteristiche presente in tutta la gamma di Bomor è quella di fare la fase di fermentazione in queste vasche di pino dell'Oregon e questo conferisce a tutti i nostri Bomor questa nota fortemente caratterizzante di frutta esotica. Ad eccezione di Bomor number one che come vedete non specifica un anno di invecchiamento sulla bottiglia e quindi è chiamato un no age statement, tutti gli altri Bomor invece esplicano quello che è l'invecchiamento proprio sul frontale dell'etichetta. Vi ricordo che a differenza di quanto siamo abituati a pensare parlando di rum, nel caso dei whisky quando leggete un anno di invecchiamento sulla bottiglia si fa sempre riferimento al liquido più giovane contenuto all'interno della bottiglia. Oggi andremo ad assaggiare insieme Bomor number one, unico Bomor del portfoglio presente in distribuzione che non specifica l'anno di invecchiamento in bottiglia, quindi è un no age statement. La distilleria Bomor però fa uscire tutti i suoi whisky con almeno sette anni di invecchiamento. Un whisky che si presenta di colore oro, un whisky che al naso ci regala queste belle note marine, queste belle note iodate, questo fumo di torba abbastanza presente al naso, sicuramente anche accompagnato da note un pochino più delicate di erica e miele e note di cocco e frutta esotica dovute chiaramente alla fase di fermentazione che avviene in tini di pino dell'Oregon. Anche in bocca queste note si trovano con grande corrispondenza rispetto a quello che abbiamo sentito al naso, quindi ancora una volta questo fumo di torba che accarezza il palato seguito appunto da note agrumate di limone e lime, questa bella nota di cocco e infine una bella nota floreale di erica. Questo whisky che come racconta l'etichetta è invecchiato per minimo 12 anni presso le nostre distillerie, presso il nostro magazzino di invecchiamento che è il Volz Number One, magazzino di invecchiamento più antico di tutta la Scozia, andiamo a versarlo nel nostro Glencairn. 12 anni, 12 anni passati in botti ex bourbon provenienti dalla distilleria Maker's Mark di Loretto in Kentucky, botti che arrivano presso le nostre distillerie, vengono smontate e vengono ricostruite in botti da 250 litri. Come vedete un bel colore ambrato, questo naso sincero e complesso che ci racconta di questo whisky che proviene dal mare quindi con queste note leggermente salmastre, leggermente sapide ma che si apre bene al naso invece con questi profumi addirittura agrumati e di miele, di miele d'acacia. In bocca regala un sorso complesso, un sorso pieno, un alcol che accarezza il palato senza bruciare, che attorciglia bene la lingua senza essere mai invasivo, ancora una buona corrispondenza tra quello che è la sensazione di naso e quella di bocca, quindi il ritorno di queste note agrumate, di questa sensazione mielata, queste note di erica e poi solo sul finale questo leggero fumo di torba che è la caratteristica principale di tutti i whisky di bohmore, 15 anni. Come dice l'etichetta, un scotch whisky che invecchia per 15 anni presso i nostri magazzini di invecchiamento, Vols Number One, il magazzino di invecchiamento più antico di Scozia, è l'unico a trovarsi sotto il livello del mare. Un whisky che per i primi 12 anni di gestazione invecchia in botti ex bourbon provenienti dalla distilleria Makersmark di Loretto in Kentucky e successivamente gli ultimi tre anni in botti europei di ex sherry oloroso. Queste botti conferiscono la sua caratteristica principale, questo colore chiamato darkest, vedete questo bel colore ambra scuro, un naso che sviluppa note di erica, in questo caso di miele, ma soprattutto di cacao e di caramella toffee. In bocca un sorso pieno, un sorso che ci regala queste sensazioni ancora più marcate di tostatura, di cacao, di caramella toffee e soltanto sul finale questa leggera torbatura data appunto dalla affumicazione che fa il nostro malto con la torba di nostra proprietà. Parleremo di Bomor 19, un'etichetta molto rara in Italia, ne sono rimaste pochissime, quindi non la apriremo per lasciarne di più a voi. Ma cosa aspettarci da questa bottiglia? Una bottiglia importante, una bottiglia che invecchia per 12 anni in botti ex bourbon provenienti dalle distillerie Maker's Mark in Kentucky, più precisamente all'Oretto, e per gli ulteriori 5 anni a completamento dei 19 in botti di rovere francese che contenevano Chateau Lagrange. Un whisky da questo colore intenso, da questo colore scuro, che regala al naso note sottili di fumo di torba, seguita invece da note molto più fruttate, di frutta esotica e di frutta estiva. Un whisky quindi che ha una torbatura delicata e che si esprime alla bocca con questa completezza, con questo bouquet aromatico che va dal miele all'erica fino appunto arrivare a questa frutta matura sicuramente derivante dall'utilizzo delle botti di rovere francese. Slay in tè!